Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, firma per il terzo anno consecutivo l'ordinanza che vieta la vendita e l'utilizzo dei fuochi d'artificio durante le festività natalizie. Esultano gli animalisti, i primi ad aver sostenuto questa iniziativa, oltre alla stragranda maggioranza dei residenti, che di festeggiare il 31 dicembre in piazza con l'incubo di trovarsi dinanzi ad un petardo non hanno proprio voglia. Sebbene al centro di numerose polemiche l'ordinanza proibisce la vendita e l'utilizzo dei fuochi d'artificio a partire da oggi fino al 1 gennaio. Saranno dunque banditi quelli appartenenti alle categorie 2 e 3, così come stabilisce l'articolo 3 del decreto legislativo del 4 aprile 2010, e più nello specifico il numero 58. Naturalmente anche quest'anno a qualche venditore ambulante c'è da scommettere che sotto banco qualche piccola fornitura non mancherà, e non sarà possibile neppure spacciarli per fuochi autorizzati, visto che il provvedimento vieta la vendita di tutti i fuochi che abbiano effetto di scoppio. L'ordinanza del sindaco, lo ricordiamo, venne fuori tre anni fa seguendo gli esempi delle città di Venezia e Torino. Un giusto deterrente, visto che negli anni scorsi è diminuito notevolmente il numero degli incidenti e soprattutto dei feriti, in particolare nella notte di San Silvestro. E mentre in queste ore proliferano i commenti sulla pagina Facebook del primo cittadino, Emiliano resta sempre più convinto dell'ordinanza già disposta. Un duro colpo in particolare alle organizzazioni criminali baresi, abituate da sempre a dare il benvenuto al nuovo anno a colpi di botti.